Due associazioni di due paesi, l'area Flegrea, Quarto e Pozzuoli, si mettono insieme per portare avanti un progetto di sviluppo dell'area Flegrea. Eugenio? Sì, noi finalmente abbiamo creato questo coordinamento dell'area Flegrea che ha come fine ultimo quello di uscire dai ristretti confini dei singoli comuni di Quarto, Monte di Procida, Bacolo e Pozzuoli e iniziare finalmente ad intavolare e discutere di questioni che interessano l'intero comprensorio Flegrea e pertanto stiamo iniziando a fare queste prove generali per vedere quali sono le criticità e quali dovranno essere gli strumenti che dovranno essere messi in campo dai singoli sindaci, dai singoli amministratori comunali per rilanciare l'area dell'intero comprensorio Flegrea e vedere dove dobbiamo collocare l'area Flegrea, se dargli una vocazione turistica e quindi quali dovranno essere gli strumenti da mettere in campo, quali dovranno essere soprattutto le problematiche da risolvere e avviarci quindi in uno sviluppo sostenibile per l'interare. E a proposito di questa iniziativa, la manifestazione di oggi Garanzia Giovani si rivolge appunto ai giovani per creare occupazione? Sì, oggi si concretizza quindi questa sinergia tra le due associazioni e abbiamo quindi un meeting, una tavola rotonda con l'assessore regionale Nappi in cui parleremo di opportunità per i giovani, quindi di questo progetto che è Garanzia Giovani. Cosa è Garanzia Giovani? Garanzia Giovani è il piano europeo per la lotta alla disoccupazione, ne fanno parte tutti i paesi membri della comunità europea che hanno il tasso di disoccupazione superiore al 25%. Quindi tutti i giovani dai 15 ai 29 anni che non lavorano e non sono impegnati in un percorso di studio, di formazione possono accedere a questo servizio per fare apprendistato, tirocinio in qualunque azienda. Quindi il giovane viene assunto da un'azienda e tecnicamente pagato dalla regione per apprendistato eccetera eccetera. Assessore Severino Nappi, assessore alla formazione e al lavoro, parliamo però di un progetto particolare, Garanzia Giovani. Che cos'è e che opportunità dà ai ragazzi? È uno strumento per aiutare i giovani a avere un'opportunità. Non è un postificio ma è una concreta opportunità che riguarda i 400.000 ragazzi della regione Campania tra i 15 e i 29 anni. È una misura con la quale noi impegniamo 650 milioni per favorire le nostre imprese e i nostri ragazzi garantendo e finanziando tirocini, contratti apprendistato, misure di autoimpresa, servizio civile, insomma tutto quello che può aiutare in un tempo complicato come il nostro i nostri ragazzi ad avere un'opportunità di entrare nel mondo del lavoro. E le imprese ovviamente partecipare avendo delle risorse di finanziamenti garantite dalla regione. I ragazzi devono iscriversi sul sito che è disponibile attraverso l'Agenzia regionale per il lavoro, l'ARLAS, e quindi si iscrivono. Altrettanto fanno le imprese, possono fare le imprese e questo incrocio tra domande e offerte di lavoro dà delle opportunità che sono quelle sulle quali noi diamo concretezza alle speranze, alle aspettative e a quello che serve per i nostri ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.